Deve arredare il soggiorno di casa, così con l'aiuto di un complice decide di pedinare e derubare un cliente di un negozio di elettronica di Rio Salso. I carabinieri di Urbino, assieme ai colleghi di Piobbico e da Pecchio, coordinati dal PM Irene Lilliu, hanno arrestato due albanesi con precedenti per spaccio di stupefacenti per furto in un'abitazione avvenuto il 30 ottobre 2014 ed è ferito un terzo incensurato per concorso che gli faceva da palo. Coleci Edmir, spalleggiato da Sinani Intrit, dopo aver adocchiato un cliente che aveva acquistato un impianto stereofonico, lo ha seguito fino alla sua abitazione, a Camazza 7. Si introduce nella sua abitazione e oltre allo stereo lo deruba anche di oggetti per un valore complessivo di 3.000 euro. Ai carabinieri ci sono voluti sei mesi per accertare tutti i collegamenti tra i 3 malviventi e gli spostamenti in provincia, da loro effettuati a bordo di una Fiat Multipla che, parcheggiata a Piobbico, ha attirato l'attenzione di un abitante che ha prontamente avvisato i militari. È importantissimo per noi carabinieri e per tutte le forze di polizia riuscire ad avere un contributo e una partecipazione attiva del cittadino così come in questo caso. Infatti le due ordinanze e il deferimento di un altro cittadino di nazionalità albanese è stato possibile grazie alla segnalazione del cittadino che ha permesso a noi carabinieri di arrivare al deferimento di un cittadino albanese 26enne di Fano e all'esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari in Osimo e in Piobbico.